Vi siete mai chiesti come trovare la giusta guida nella vita? Oggi vi porterò in un viaggio emozionante, alla scoperta di antiche saggezze che sveleranno come affrontare le sfide e le decisioni quotidiane con saggezza e fiducia. Ma restate sintonizzati, perché alla fine del nostro percorso vi svelerò un segreto straordinario contenuto nel Salmo 37 che cambierà la prospettiva su come guidare la vostra vita. Assicuratevi di mettere mi piace al video e di condividere questa preziosa conoscenza con chiunque ne abbia bisogno. Iniziamo con il Salmo 32 che ci dice Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Questo versetto ci insegna che possiamo trovare saggezza e guida direttamente da Dio. La seconda citazione biblica è tratta dal Libro dei Proverbi e recita Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua intelligenza. Riconoscilo in tutti i tuoi passi ed egli appianerà i tuoi sentieri. Questo passo ci insegna l'importanza della fiducia in Dio e come questa fiducia possa aiutarci a superare le sfide che incontriamo. La terza citazione biblica è dal Salmo 119 e afferma Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Questo versetto ci invita a fidarci di Dio e a mettere le nostre speranze nella sua parola come guida nelle nostre vite. La quarta citazione biblica è tratta dal Libro di Geremia Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo Oracolo del Signore Progetti di pace e non di sventura per concedervi un futuro pieno di speranza. Questo passo ci ispira a superare le sfide e ad affrontare ogni situazione con fiducia sapendo che Dio ha piani di speranza per noi. Infine, giungiamo alla promessa che ho anticipato all'inizio del nostro viaggio. Nel Salmo 37 leggiamo queste parole confortanti Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. Questo versetto ci conferma che non siamo soli nella nostra ricerca di guida. Il nostro destino è già stato tracciato da colui che conosce il meglio per noi. Affidandoci alla sua guida possiamo avere la certezza che le nostre strade saranno illuminate e che il nostro cammino sarà sicuro. In questo messaggio di speranza troviamo la conferma che Dio è con noi in ogni passo del nostro percorso come promesso all'inizio di questo video. Vi invito a condividere nei commenti quale citazione biblica vi ha colpito di più e come pensate di applicarla nella vostra vita. Riflettere su queste parole e condividere le vostre esperienze può essere un modo prezioso per approfondire la comprensione di queste saggezze. Grazie per aver guardato questo video. Che la guida di Dio sia sempre con voi.